Sofì Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, e Alessandro Basciano come annunciato dalla coppia non stanno più assieme ma i motivi della rottura rimangono ancora misteriosi. Benvenuti su Gossip TV, il tuo canale di riferimento per il gossip più intrigante e del reality più affascinante. Nella recente intervista, Sofì ha condiviso i dettagli più segreti su cosa ha portato alla fine della sua relazione con il padre di sua figlia. Sofì Codegoni è stata una figura amata nel mondo del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ma ora sta affrontando una fase complicata a causa della sua separazione da Alessandro Basciano, che abbiamo conosciuto nella casa del grande fratello. Tutto sembrava perfetto quando si sono uniti come genitori della loro adorabile figlia Selin, ma le difficoltà hanno iniziato a insinuarsi nella loro relazione. È trascorso solo un anno dalla proposta di matrimonio più romantica al Festival del Cinema di Venezia. Ed ora cosa è cambiato? Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi aggiornamenti. Ora la coppia ha annunciato la loro separazione. In un comunicato ufficiale su Instagram, Sofì ha rivelato che ci sono molte cose gravi dietro questa decisione, alcune delle quali sono state scoperte solo di recente. Secondo voi, è meglio che Sofì e Alessandro siano rimasti separati? O avrebbero dovuto cercare di risolvere i loro problemi? Scrivetelo nei commenti. Nel corso di una recente intervista a Casa Chi, Sofì ha condiviso i suoi sentimenti durante questo periodo difficile. Ha dichiarato, Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo, ma lavoriamo. La mia bimba mi fa stare bene e si va avanti. La vita non finisce. Non è il periodo migliore della mia vita, ma va bene. Non bisogna permettere a nessuno di rovinare la magia che ti consente di poter lavorare bene. Se sto a casa da sola, sto troppo male. Quali consigli dareste a Sofì in questo momento difficile? Lasciate i vostri consigli nell'area dei commenti. Ma ecco cosa ha dichiarato sui reali motivi della rottura. Purtroppo vorrei dirti questo, ma non posso dirti che non ci sono in mezzo persone. Ce ne sono e ci sono anche tante cose che, non è facile, ci sono cose che non si sanno. Scusate. La domanda che tutti si pongono è, quali sono i motivi di questa separazione? L'ipotesi di un tradimento non è stata esclusa, anche se Alessandro, dal letto d'ospedale, ha dichiarato il contrario. Quale sarà la verità di questa rottura così clamorosa? Secondo voi Alessandro ha veramente tradito Sofì, o c'è altro dietro?